Sì, poteva essere un'occasione per tirarsi un po' fuori, che poi non voleva dire niente perché anche vincendo non è che eravamo salvi, lo vediamo, siamo 7-8 squadre nel giro di 3-4 punti, però abbiamo perso un'occasione importante, come ci era già successo in passato, ma come comunque possiamo vedere è che continuano a fare anche le altre squadre, quindi adesso pensare di quello che potevamo fare, cosa poteva succedere se non serve a niente, adesso bisogna pensare a domenica, se avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma non l'abbiamo fatto, quindi pensare troppo a quello che è stato non porta neanche nulla di buono, bisogna lavorare sugli errori ma pensare a cosa bisogna fare domenica.